siamo a bordighera in via alla vena pittore questo è il primo tratto appunto della strada primo lampione secondo lampione anche qui una delle tre lampade è spenta terzo lampione sistemato sul lato destro della carreggiata via la vena a un certo punto si divide in due tronconi uno a destra con i numeri pari e uno a sinistra con i numeri dispari tratto di via la vena numeri pari questo è il primo lampione anche qui ce n'è una lampada spenta secondo lampione tratto numeri pari di tre lampade ce n'è solo una accesa qui siamo al terzo lampione quarto lampione ce ne sono due spente inizio via la vena numeri dispari questo lampione è nascosto da una siepe questa è la visibilità in via alla vena numeri dispari secondo lampione via la vena numeri dispari terzo lampione terzo lampione quarto lampione sempre in via la vena numeri dispari anche qui una sola lampada accesa quinto lampione una sola lampada accesa sesto lampione è completamente spento nell'ultimo lampione di via la vena numeri dispari l'ultimo lampione che un'ultimo lampione Grazie a tutti